Vi voglio parlare e raccontare un po' di questi prodotti che per tre anni di fila hanno vinto il premio Food alla Nougat e Sial Parigi e Colonia. L'ultimo premio che abbiamo ricevuto è stato per il packaging innovativo, tant'è vero che questo prodotto lanciato da pochissimo sul mercato è stato già cambiato a livello di packaging partendo da una cap di plastica con uno sliver di cartone, passando da quest'anno in un pack completamente fatto di carta. Questo è perché ci siamo resi conto che dobbiamo assolutamente seguire i nuovi trend e tutte le richieste che arrivano dai consumatori sempre più attenti alla sostenibilità ambientale, tutti vogliamo essere più green ed è giusto che sia così e dobbiamo impegnarci tutti dal consumatore al produttore. Penso che questa scelta ci stia premiando perché non solo riscuotiamo più interessi anche da parte delle catene di supermercati, dai distributori in Italia e all'estero, ma vediamo le vendite e le richieste aumentare perché la plastica è un tema forte, è un tema molto importante, dobbiamo fare in modo di limitare il più possibile, di conseguenza un pack di carta con tutte le certificazioni tra l'altro penso che sia un tema vincente e un driver per l'incremento delle vendite e per la sostenibilità ambientale. Abbiamo puntato sulla salubrità totale del prodotto, tutto italiano, la pasta è prodotta internamente, precotta dalla pasta berruto, pasta che non è fritta come i nudes asiatici ma è semplicemente precotta, sughi premium assolutamente senza glutammato aggiunto e senza conservanti e senza olio di palma. Questo è un ulteriore rafforzamento al nostro pensiero e al fatto che dobbiamo avvicinarci sempre di più al consumatore, proteggere la salute dei nostri clienti e dare una mano al mondo.